di qualità dell'informazione, fatemelo dire, perché secondo me è questo il lavoro che va fatto nelle prossime ore, perché ognuno scelga come crede, ma scelga consapevolmente e nel merito, però ho voluto essere presente e mi sono preso questo tempo per essere qua, perché davvero sono convinto che il vostro lavoro prezioso e che possiamo fare davvero tanti passi avanti insieme. Grazie. Bene, grazie all'Onorevole Rampi per la sua disponibilità e chiarezza e per l'impegno anche per il prossimo futuro. Ecco, grazie veramente. La parola a Pierluigi Santoro, lo conosciamo, è uno dei più importanti consulenti editoriali del settore e credo dall'87 è responsabile marketing e commerciali di grandi imprese. Prego. Buongiorno, bentrovati. Interessante una cosa che non è stata detta e che credo valga la pena di dire prima di fare il mio modestissimo intervento. Il caso vuole, ma probabilmente non è un caso in realtà, che oggi, 250 anni fa, in Svezia, il 2 dicembre del 1766, per esattezza più o meno, quando sono nato io, come vedete, dall'aspetto fisico, fu istituita la prima legge sulla libertà di stampa. Quindi oggi sono 250 anni in cui qualcuno si è preso la briga, nel senso positivo del termine, di salvaguardare quello di cui stiamo parlando. Ci ho detto. Io purtroppo mi trovo nell'incomoda posizione di fare il cattivo del gruppo, ma d'altra parte ci vuole sempre qualcuno che lo faccia, sennò il gioco non funziona, e proverò ad assolvere il mio ruolo nel peggiore dei modi. Vediamo se capisco come si muovono. Devo aprirlo? Ah, ok, non ho capito, scusa. Perfetto. Ci siamo. Eccoci qua. Superarte. Proviamo a fare un minimo di analisi di scenario e poi a vedere se esistono delle ricette possibili per uscire da questa situazione. Va bene, mi chiamo Pierluca Santoro, ho 98 anni portati mali, ce lo siamo già detti, non interessa. Non avendo niente di meglio da fare nella vita ho scritto due libri su questi temi. Un primo libro è dedicato alla filiera tradizionale, all'edicole di cui parlava l'onorevole Rampi che mi ha preceduto, e un secondo che invece è dedicato ai modelli di business al futuro dei giornali. Come vedete c'è stato un grande sforzo di fantasia nella titolazione dei libri. E quindi veniamo a noi. Lo scenario di riferimento, già l'immagine ci dice molto su quella che è la realtà. Io mi alzo così vi vedo, tanto essendo basso riesco ad arrivare lo stesso ai tasti senza bisogno di chinarmi. Quindi questo è l'andamento degli investimenti pubblicitari nel nostro paese negli ultimi dieci anni. Come vedete c'è una fortissima contrazione, sono oltre 3 mila miliardi di euro persi negli ultimi dieci anni e come vedete la stampa, che è questa in basso, il verde chiaro, il verdolino, come direi in maniera colloquiale, è quella che più di tutti soffre. Cose che sappiamo, ci diciamo giusto per riepilogare la situazione, sono sicuro che informazione possedete tanto quanto voi. Questa invece è un'informazione che secondo me è un po' più interessante, se posso dirlo. Questi sono gli ultimi dati disponibili delle indagini Audi Press, qui non stiamo parlando di vendite di giornali, qui stiamo parlando di readership, di lettorato, di quanta gente legge i giornali e poi anche i periodici nel nostro paese. Ebbene, al di là ancora una volta del calo premesso che l'Italia purtroppo, visto che si è parlato di cultura, ha parlato di cultura, chi mi ha preceduto, l'Italia non si contraddistingue nel panorama internazionale né per la lettura di libri né per la lettura di quotidiani, a prescindere dalla rete o da altri fenomeni che sono arrivati nel recente passato. Però questa slide, questi dati dell'ultima indagine, ci dicono una cosa interessante sulla quale vorrei richiamare brevemente rispetto al tempo che abbiamo a disposizione, la vostra attenzione. Guardate, fonte nella seconda fascia qua, dei grafici. Guardate in particolare proprio i quotidiani. Fonte di provenienza della copia. Fonte di provenienza della copia, avuta da altri, prestata, trovata, altro, 55.8%. Cosa vuol dire? Vuol dire che più della metà delle persone non compra quello che legge. Gli lo porta a casa il marito, glielo porta a casa la moglie, glielo legge al bar, glielo presta il collega in ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ci tengo, grazie a questi dati, a sfatare un mito. Non è internet che ha distrutto i giornali. Non è che perché i giornali, probabilmente sbagliando e pensando di basare il loro modello di business solo sulla raccolta pubblicitaria, hanno iniziato a regalare le informazioni in rete che l'industria editoriale, o come la chiama Emily Bell, l'ex industria dell'informazione, ha dei problemi. I giornali sono sempre stati regalati. I giornali sono sempre stati finanziati dalla leva dei ricavi pubblicitari. Non è un problema di internet. Vediamo di sfatare un mito oggi. C'è un altro aspetto. Abbiamo visto la grandissima contrazione degli investimenti pubblicitari, qui però vi propongo il dettaglio fra andamento a spazi e andamento a fatturato. Lo vediamo a colpo d'occhio. L'andamento a spazi è di gran lunga meno peggio, passatemi la volgarizzazione del termine, di quanto sia fatturato. Quindi qui vuol dire che in realtà gli investitori pubblicitari hanno ancora un interesse a investire sulla carta stampata e che le concessionalie di pubblicità, adesso facciamo le generalizzazioni, come tutte le generalizzazioni del caso, è evidente che ci siano inevitabilmente delle eccezioni virtuose, le concessionalie di pubblicità non hanno fatto bene il loro mestiere. Hanno svaccato, sbragato, come si suol dire volgarmente, i prezzi per cercare di tenere i volumi. E hanno tenuto i volumi, ma non hanno tenuto e quindi gli effetti sono quelli che conosciamo. Effetti che poi si traducono, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, in questo panorama. fatturati e margini operativi ai minimi termini, adesso non sto a entrare nel taglio delle cifre perché avendo il tempo che abbiamo a disposizione investiremmo troppo sull'analisi puntuale del singolo dato e evidentemente forte perdita occupazionale sia per quanto riguarda la parte giornalistica che, se possibile, ancora di più per quanto riguarda poi i cosiddetti poligrafici. Proviamo a fare una fotografia, abbiamo visto dei dati e adesso proviamo a fare una fotografia un po' più qualitativa. Ho provato a fare questa tabella di comparazione fra chi vende un qualunque prodotto, un qualunque servizio e invece chi vende, passatemi questa vulgarizzazione, io sono un marchettaro nel senso buono ma anche in quello cattivo del termine, quindi cerco di andare al sodo, chi vende informazione? L'abbiamo visto prima, da un lato chi vende un prodotto o un servizio, per definizione lo vende, l'abbiamo visto prima con i dati Audi Press, gli editori di quotidiani di fatto da sempre, non da quando esiste la rete, hanno regalato ciò che offrono. Soprattutto da un lato si guadagna vendendo prodotti o servizi le persone, dall'altro lato si guadagna come? Fondamentalmente vendendo le persone, cioè io vendo all'investitore pubblicitario il pubblico la possibilità di vincolare un determinato messaggio a una porzione di pubblico che altrimenti fino a ieri, poi arriviamo anche a questo, senza di me lui non arriverebbe a contattare. Ed è questo il punto fondamentale. Purtroppo non voglio farne un discorso politico, anche perché c'è chi l'ha già fatto e chi è per definizione più titolato di me a farlo, ma ho l'età per ricordarmi di quando Berlusconi proclamava dateci dei contenitori pubblicitari e li riempiremo. Non so, forse qui qualcuno di noi ha la mia stessa età e si ricorda questa frase. E così è stato, sono stati costruiti contenitori pubblicitari che avevano evidentemente come focus l'investitore pubblicitario. Ma così facendo, e credo sia questo un aspetto centrale della grande crisi che sta attraversando l'editoria e credo altrettanto, se posso dirlo, che da questo punto di vista le aziende cooperative giornalistiche possano svolgere un ruolo davvero importante in tal senso, si è perso assolutamente di vista il lettore. O riportiamo, lavorando tutti noi insieme, al centro il lettore, oppure siamo veramente al di là dei programmi, degli slogan, delle caste e di tutto quello che conosciamo. O riportiamo il lettore al centro o se no siamo davvero morti. Purtroppo, per quanto riguarda l'online, non possiamo aspettarci di avere ricavi significativi dalla vendita di contenuti. Questi sono i risultati di un'indagine internazionale fatta dall'Associazione Mondiale dei Quotidiani e ci dicono, come vedete, che le attese di ricavi dal pagamento di contenuti tramite paywall, tramite abbonamenti all'edizione digitale, eccetera, sono estremamente scarse, estremamente deboli. Tutti gli editori del mondo sanno che non faranno soldi da questa cosa qua. Quindi per avere una sostenibilità ci vuole, bisogna trovare degli altri sistemi, delle altre fonti di ricavo. Diciamo che complessivamente siamo davanti a due grandi biforcazioni. Un mercato, chiamiamolo di massa, basato sul tutto free, dove la gente legge le notizia gratis in cambio di beccarsi più o meno, poi se troviamo il tempo, un annuncello lo facciamo, la pubblicità e dall'altro lato una ricchia decisamente più ristretta di persone invece disponibili a pagare l'informazione. Le slide le metto online lunedì e le troverete sul sito del quale, non avendo ancora una volta niente di meglio da fare, sono project manager che si chiama Data Media Hub, fine dello spot delle 16. C'è un'altra cosa e qua credo sia un elemento di riflessione molto importante. Questi sono dati freschissimi, sono stati pubblicati due giorni fa. L'informazione, per quanto riguarda dall'online, è sempre più mobile. Tutti noi ci connediamo sempre più a internet attraverso questi maledetti e benedetti ordini, gli smartphone, i tablet, eccetera, eccetera. Guardate qua, su coloro che fruiscono di informazione da mobile e per comodità e anche perché la user experience sarebbe altrimenti drammatica usano delle app per leggere le notizie, guardate qui, tutte le testate tradizionali ma anche le agenzie di stampa, mi sembra ci sia l'ANSA se non si ricordo male, o la versione digitale dei telegiornali e la relativa app, perdono tutti. Tutti. Repubblica Cala, Coleris Cala, TG Com Cala, eccetera, eccetera. Crescono due. Chi cresce? Flipboard e, come diavolo si chiama un altro, News Republic. Per chi non li conoscesse, sono entrambi degli aggregatori di notizie. Ok? Cosa vuol dire? Secondo me, evidentemente. Vuol dire che i giornali sono morti, ma non sono morti i giornali di carta. È morta l'idea del giornale come elemento monolitico, come pacchetto di informazione. Dobbiamo completamente ripensare il prodotto. Anche le auto stanno diventando smart, si guidano da sole, fanno delle cose meravigliose o anche no, a seconda dei punti di vista. Il giornale è la stessa roba da 150 anni. Alla gente non interessa più. Non è, ancora una volta, un problema di rete, di digitale o di carta. È un problema di concezione, di relazione con i lettori e di innovazione di prodotto che non c'è mai stata. Il massimo dell'innovazione è stato il full color. Qualche rivisitazione grafica. Scusate, l'ho detto che sono qui a fare il cattivo, ma uno fra tanti deve prendersi questa responsabilità. Dice Alan Di Matter, professore universitario statunitense di fama e intelligenza di gran lunga superiore alla mia per definizione, leggo pedesequamente, la rincorsa verso il traffico online ha posto le organizzazioni editoriali in una condizione di grandi audience e scarsi ricavi. Un errore strategico nell'epoca in cui la fedeltà dell'utenza, la passione, il coinvolgimento sono la chiave per costruire un business sano e profittevole per le imprese editoriali. Sono vent'anni che tutte le imprese editoriali, ancora una volta con l'eccezione delle generalizzazioni, perseguono modelli di volume. dobbiamo perseguire, individuare, costruire modelli di valore, non modelli di volume. Il volume ci ammazza. C'è scritto alla prima pagina del bigino del primo esame universitario di macroeconomia che a crescere nell'offerta il valore cala. Se inseguiamo il volume andremo sempre più a prezzi calanti e avremo sempre più maggiori difficoltà. Non è la strada che ci porta da nessuna parte. Mi autocito in una foto in cui stranamente sono venuto bene. Non so, o almeno non so dirvi se non facendo un'analisi specifica caso per caso evidentemente, quale sia il modello di business di ciascun giornale. Ma di una cosa sono sicuro e credo che sia un dato di fatto. Il modello di business sul quale si sono basati i giornali negli ultimi 150 anni non è più vero, non è più valido e non è più sufficiente. C'è un altro discorso. Internet era la disintermediazione, era la democrazia dell'informazione. qualcuno, visto che siamo vicino a una giornata cruciale per la nostra nazione, qualcuno ne ha fatto un emblema della democrazia elettronica. Che come diceva Lady Diana, una stronzata colossale. Comunque, ci ho detto, in realtà la disintermediazione non esiste. Esiste la reintermediazione. Sono cambiati i soggetti che intermediano. Oggi ci sono due soggetti che intermediano. Uno si chiama Facebook e l'altro si chiama Google. Sono loro i nuovi intermediari. E chi considera le piattaforme social come piattaforme di distribuzione dei contenuti. Si sta facendo stringere un cappio di velluto al collo e fregare dai nuovi intermediari. E quindi, e mi avvio alla conclusione che sono già stufato abbondantemente, che fare? Allora, cambia il mondo, cambia il lavoro. Io ho iniziato a lavorare nel marketing in azienda nel 1987, in una grande azienda. È stata una scuola, professionalmente parlando, molto importante. Ma se io fossi rimasto nel mio mestiere, in quello di cui mi dichiaro sedicente esperto, a ciò che facevo nel 1987, quando ho iniziato a lavorare full time, premesso che ho sempre lavorato, Bianchino, benzinaio, Pony Express ne ho fatti, ho perso il conto di tutto quello che ho fatto nella vita, ma a parte le parentesi personali. Torniamo a noi. Se io avessi continuato a fare il marketing come lo facevo nel 1987, avrei oggi davanti a me due possibilità. Uno, trovare una miliardaria che mi sposa e mi mantiene e purtroppo, come avrete visto, non ho il physique du role per poter ambire a questo tipo di meta. L'altro, è dormire su un cartone, sotto un ponte, su una panchina, in qualche luogo, disagiato. Quando io ho iniziato a fare marketing, i social network non esistevano. Questo vale anche per i giornali e per i giornalisti. Il mondo cambia, si evolve e noi con loro. E io credo che per esprimere valore oggi il giornalista debba fare il curatore di contenuti, che non è assolutamente uno sviluppo professionale. Anzi, a mio modo di vedere ancora una volta evidentemente, è un'esaltazione. Perché se il giornalista, come provo a rappresentare con questa slide, si pone al centro del processo, fa da collettore, da aggregatore di tutte queste fonti e di altre che ho lasciato perdere per semplicità della slide, diventa un riferimento. io faccio sempre un esempio. Se io giornalista vado, faccio per dire ovviamente, alla conferenza stampa di Renzi, torno al giornale e scrivo, Renzi alla conferenza stampa ha detto questo e quello, sto facendo male il mio lavoro. Quella non è informazione, quello non ha valore. perché? Mentre Renzi era alla conferenza stampa, o chiunque altro, ancora una volta, il suo staff lo stava twittando, quindi Pierluca lo sa già cosa ha detto Renzi. Io devo tornare in redazione e aggregare e dare senso. Renzi ha detto questo, le implicazioni per la comunità economica europea sono queste, per il cittadino sono queste altre e quindi è molto probabile che possa o debba succedere quest'altro. Stai mettendo più o meno una ruota libera, spero di riuscire a spiegarmi. Ok? Ci sono. Idem per quanto riguarda, lo diceva Rampi, l'onore Rampi prima, tutta la filiera editoriale bisogna, questa è come funziona la filiera editoriale attualmente, quella tradizionale legata la carta ovviamente. Bisogna in questo caso si disintermediare, mettere direttamente attraverso l'informatizzazione delle edicole, le edicole in diretto contatto con gli editori. C'è da andare a recuperare come minimo il 10% di marginalità, che vuol dire per moltissime imprese editoriali passare dal rosso al nero, dal negativo al positivo. E non c'è motivo per non farlo. Non c'è motivo per non farlo però, mi sembra loveroso dirlo, si parla di informatizzazione delle edicole, il sottosegretario dell'edicola Paolo Peruffo nel 2012 fece una legge in cui si legavano i finanziamenti dei giornali alla informatizzazione delle edicole, questa roba è legge da 4 anni, abbiamo fatto un'altra legge e l'informatizzazione non arriva. E vi dico per certo, ma sono sicuro che molti di noi posseggono tanto quanto me questa informazione, che non arriverà almeno per i prossimi due anni, perché dentro la FIEG si stanno tirando i calci negli stinchi per vedere chi e come se la fa meglio questa cosa. E vado alla conclusione del mio discorso. Non è, togliamoci dalla testa, di controllare, di dominare l'industria musicale, l'industria discografica, banalmente, che ha molte più similitudini di quanto si pensi, lo dimostra. Non è il controllo la chiave. Dobbiamo, tutti noi, ciascuno per la propria competenza, la propria responsabilità, esprimere valore nei confronti dei cittadini, delle persone, dei lettori, se la vogliamo vedere da un punto di vista giornalistico. Non è chiudendo i muri, non è istituendo dei muretti di sassi che succederà niente di positivo. E finalmente mi taccio. Proviamo. Quindi, secondo me, contenuti unici di qualità, sentiment di esclusività, massimo livello di personalizzazione e personalizzazione facile. Roba che la gente non deve fare quasi niente. Flipboard ti loghi con il tuo account social, gli dici quali sono gli argomenti che ti interessano e lui ti raccoglie tutto quello che, in base a quello, ti può interessare. Non robe complicate, scegli, fai, disfai. La gente non lo fa. Distribuzione, conversione, aperta, rilevante, inclusiva, trasparente. La reputazione. I giornali sono dei brand, sono dei news brand. Sono dei news brand assolutamente sviliti, sbaccati, come si suol dire volgarmente, nella ricerca di volume anziché di valore. Io cito sempre l'esempio del gazzettino quotidiano del nord-est. Piaccia o non piaccia? Uno condivide la linea editoriale o meno, per carità, però il fatto del gazzettino era il quotidiano del nord-est, più autorevole, più letto. Voi andate a vedervi la pagina Facebook del gazzettino, andate a vedervi il sito web del gazzettino, sembra il sito web dei fumetti che leggevo in caserma a militare. O peggio. facilità di pagamento di accesso. Poca gente è disposta a pagare, ma se anche a quei pochi gli faccio fare dieci click per pagare, uno al secondo click, se è di buona volontà, al terzo molla. Abbondanza, è pieno di work, dove all you can eat. Proviamo a prendere, ovviamente trasformando, adattando. Proviamo a prendere esempio. Relazione. Tutti i giornali vanno sui social a fare che cosa? A portare traffico. Vanno sui social a capire le persone, a relazionarmi con loro, a colloquiare con loro, a dialogare con loro, per poi portarli a casa mia sul sito e valorizzare questa relazione. Ma non parlandogli di gattini, di farfallini e di belen o di tutta quella cozzaglia di roba che si trova anche sui cosiddetti grandi quotidiani nazionali. Parlandogli di quello che interessa la gente, i treni che ci mettono tre ore per portarli a lavoro, sono pieni, puzzano, i papà che non possono vedere i figli o le mamme che non li possono vedere, eccetera, 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 le cose concrete che interessano alle persone. E questo, visto che poi si parlerà di questo, per i quotidiani locali è ancora di maggior valore se possibile. I quotidiani locali da sempre sono l'espressione della comunità, della community. Sfruttiamo. Abbiamo ancora la possibilità di restare al centro. Sfruttiamola prima che sia troppo tardi. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di non essere stato troppo cattivo. Bene, grazie per questa analisi. Grazie ancora. Ci ha raggiunto Giorgio Pruccoli, che è il primo firmatario e relatore della legge regionale. Adesso passiamo alla prima tavola rotonda. Chiamo qui Emilio a coordinare. Parliamo dello stato dell'editoria locale, poi ci colleghiamo alla proposta di legge regionale. Chiamo al tavolo Marco Bilancioni, responsabile redazione del Carino di Forlì, Nevio Ronconi, editore Ravenna Notizie.it, Luca Pavarotti, presidente del Corriere Romagna e Manuel Poletti, direttore Sette Sere qui. Vado al centro. Volevo ringraziare Pierluca Santoro perché so che l'80% dei colleghi che sono qui hanno per così dire alzato un sopracciglio alla sua presentazione perché le cose che ci dice ma lo abbiamo chiamato apposta sono scomode. Sono la parte finale, quella da cui siamo partiti cioè che per sopravvivere e per continuare a essere giornalisti dovremo cambiare. Sul come non c'è credo nessuna certezza. Io segnalo che Pierluca, lui non l'ha detto ma io l'ho scoperto così, è autore insieme ad altri colleghi ed esperti di una bellissima newsletter che si chiama Wolf Lupo, ma la citazione ovviamente è tarantiniana perché risolvono problemi, merita andatela a cercare. Allora io partirei da questo, cosa ne pensate nella vostra esperienza quotidiana che per te Marco è quella di capo di una edizione importante del resto del Carlino che è ancora a Forlì l'organo di informazione più importante. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie Emilio. Io ho fatto anche qualche foto di alcune slide che ho girato nel frattempo da alcuni colleghi perché c'erano sicuramente alcuni spunti. Adesso vediamo, non ho ancora la risposta. Allora io vengo da un'esperienza che non è quella cooperativa, però sono convinto che ci intendiamo e ci sono alcune cose che sono state già dette, nelle quali mi ritrovo pienamente, probabilmente perché come è già venuto fuori la situazione è una situazione che viviamo comunque tutti allo stesso modo. Io sono nel Carlino dal dicembre del 2004, da circa quattro anni sono il responsabile della redazione di Forlì e questo arco di tempo copre un cambiamento enorme. Quando ho cominciato c'erano più redattori, c'erano più lettori, cioè più persone che andavano a comprare quello che scrivevamo in edicola e probabilmente potremmo dire, magari con qualche eccezione, che c'erano meno pagine. Nel frattempo la produzione, quindi lo sforzo individuale chiesto a ciascuno di noi è aumentato. Perché è questo? Non è facile rispondere ma si possono trovare alcuni fattori. Uno è legato proprio intimamente alla natura del giornale locale. Ci avevano raccontato che c'è la globalizzazione, che quindi insomma, come dire, come se fosse il locale, la nostra esperienza singola, come se perdesse di valore. A un certo momento sembrava questo. Ci siamo accorti che non è così, cioè l'incidente stradale sotto casa tira ancora tantissimo. Prima si è accennato al fatto che a volte sul web ci sono notizie frivole. Vi posso assicurare che un incidente stradale, anche non grave, fa sempre dei numeri superiori a temi magari molto più alti, molto più nobili che possiamo mettere sul sito. Per cui sicuramente insomma il fatto che abbiamo una platea di lettori che mantiene un'attenzione alla propria esperienza quotidiana, quello che succede attorno a casa sua, nella propria città, i termini insomma del dibattito locale. L'altro fattore che, come dire, ci ha portato verso un modo di lavorare diverso è il fatto che viviamo in un ambiente che non è solo quello locale, dove ci sono tante fonti. È come essere in una sala molto affollata, con molto brusio, molte persone che ti chiamano. Uno devi farlo, aspetta un attimo prima di parlare con il signore che è qui di fianco a me. Magari c'è anche una musica di sottofondo, è una situazione decisamente complicata. L'attenzione di ognuno di noi oggi è contesa in questo modo da una molteplicità di fattori. Alcuni li abbiamo citati poco fa, cioè i social, i siti internet. Ma attenzione, non solo l'informazione, ci tolgono, come dire, quote sensibili di attenzione anche quando c'è un nostro amico su Facebook che ci rilancia un link a un sito che non è di informazione. C'è tanto, tanto, tanto materiale che nel corso della giornata passa sotto i nostri occhi. Per cui il rischio è quello di essere una voce tra le tante. Questo è un po' esattamente il contrario di quello che un giornale deve fare per stare sulla piazza. Per questo una delle chiavi che abbiamo cercato di darci noi al Carlino in questi anni è quella di cercare di scegliere, battezzare degli argomenti, dedicargli più attenzione. Quindi fare emergere, come dire, da questo tutto indistinto che ci circonda, fare emergere alcuni temi particolari, cercare di sviluppare quelli, di stare su quelli. Qual è l'effetto che produce questo? Chiaramente, quel tipo di tema diventa una riflessione che caratterizza il quotidiano, caratterizza, gli dà una identità, gli dà una personalità. Sono tutti concetti in qualche modo che sono stati toccati anche poco fa nelle slide. Questo modo di lavorare, chiaramente, è un modo diverso rispetto al passato. Il giornale deve cercare il più possibile di non essere una bacheca dove ognuno appunta il proprio foglietto. Questo vale per, lo sanno, per gli uffici stampa che producono tanto materiale, ma tante volte il confine è anche molto sottile tra una cosa che poi si liquida in poche righe e invece un tema che acquista grande rilevanza. Mi rendo conto, a volte non è facile spiegarlo anche a chi si interfaccia con noi per questo, proprio perché se vogliamo sopravvivere, se vogliamo continuare a essere una voce della città, bisogna fare delle scelte. Ecco, questo mi porta a evidenziare alcune parole chiave. La prima sicuramente è la qualità, cioè quando cerchiamo di orientarci su queste scelte la qualità deve rimanere, deve essere una stella polare perché non si può fare diversamente. Si dice che poi chi è meno attento alla qualità poi si stanchi anche più facilmente, quindi in qualche modo tanto vale cercare di coinvolgerlo con argomenti che possono avere questa caratteristica. L'altra è l'originalità. L'originalità, come lo dicevo poco fa, è quella che poi ti dà un'identità, sono notizie che tratti tu, oppure notizie che hanno anche gli altri, ma vengono approfondite, gli viene dato un taglio particolare, vengono seguite per più giorni sentendo pareri. Ecco, questo ci porta alla terza parola chiave. Sono tutte in qualche modo molto collegate tra di loro ed è dibattito. dibattito perché, ecco, che cosa rende alla fine presente davvero il giornale nella città? Se crea in qualche modo dibattito. Questo è un tasto sul quale abbiamo battuto molto, a volte anche in qualche modo quasi sferazzando insomma chi non si prestava a questo. Dibattito significa che il giornale diventa un luogo dove si confrontano posizioni, dove si confronta anche la posizione del giornale stesso, dove ci sono temi che vengono sviluppati, che vengono rilanciati, che in qualche modo interagiscono con la città. Alla fine c'era una volta un vecchio capo del Carlino che diceva che i giornalisti non possono esultare quando viene meno una voce nel dibattito cittadino, un altro giornale, un'altra testata, perché non sono i proprietari della pizzeria, ma sono i pizzaioli, cioè in qualche modo non si può esultare se vengono meno dei posti di lavoro, se vengono meno dei colleghi, non hanno più questo ruolo. Oltre a questo vorrei dire che oggi il vero concorrente non è l'altro giornale che esce lo stesso giorno in edicola, in qualche modo è una ricchezza, cioè senza di quello ci appiattiremmo tutti, avremo molti meno stimoli. Il vero concorrente oggi è chi non legge, cioè chi ha letto una roba su Facebook e quindi è vera, chi ti manda un messaggio su WhatsApp dicendo mi hanno detto che hanno attivato l'autovelox nella tal via e non è vero, e tu lo vai a verificare e sai che non è vero, cioè perché sono tutti fenomeni che portano a quello scollamento dopo tra quello che racconti tu con le tue fonti, quindi le hai verificate, e invece quello che dice il vicino di casa o quello che stamattina era al bar a prendere il caffè. Questo è il vero problema oggi, questa secondo me oggi è la vera sfida, convincere il più possibile chi non legge ad appassionarsi, prima c'era anche una sottolineatura sull'abbondanza, cioè dargli più stimoli, più stimoli possibili in maniera che possa trovare nel giornale ancora un elemento di dibattito, di qualcosa che possa sentire parte della propria città, della propria identità. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Nevio Ronconi, Ravenna Notizie, editore misto, perché voi siete un'agenzia storica di comunicazione, credo che non abbiate problemi a fare le sinergie di cui parlava Santoro. Insomma, c'è preso un po' paura con quell'intervento di prima, però io adesso vi racconto la mia esperienza, perché poi noi siamo un'agenzia di comunicazione che spesso seguiva anche gli aspetti delle relazioni stampa per conto dei clienti, poi nel tempo abbiamo cominciato a creare degli eventi, aver bisogno anche noi di comunicare i nostri eventi, diversificare gli investimenti dell'azienda, dell'impresa, fino a entrare nel campo dell'editoria, che è questo giornale online che si chiama Ravenna Notizie.it, che oggi è diventato un network romagnolo di otto testate, dove chiaramente l'elemento principale rimane a Ravenna, in provincia di Ravenna, con le quattro testate di Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia e Ravenna, e ci siamo trovati a diversificare in questo senso affittando il ramo d'azienda a una società che lavorava nel mondo del web. Questa società per una serie di vicissitudini è venuta meno, c'è stato restituito il giornale, e noi da quattro anni ci troviamo in mano una testata, che era la prima allora testata di Ravenna, con circa 14.000 visite al giorno. Per un anno l'abbiamo cominciato a gestire internamente e direttamente, poi abbiamo avviato una serie di operazioni, quindi il software nuovo, una collaborazione nuova con una cooperativa di giornalisti, che è Aleph, che qui presente fa parte della rete che abbiamo costituito, e via via abbiamo concentrato lo sforzo soprattutto su Ravenna, sulla provincia di Ravenna, dove eravamo più presenti, più a conoscenza del territorio, più legati come giornale locale a questo territorio. Quindi da giornale un po' ansa locale, un po' blog e un po' giornale, è diventato via via, pur mantenendo quegli elementi, chiamiamoli di servizio verso la città, è diventato via via sempre più giornale, facendo più servizi, più interviste, video, articoli originali costruiti da noi, attenzioni alla titolazione e alle indicizzazioni necessarie, perché si scrive in maniera differente sul web rispetto alla carta, e così via. E dalle 14.000 di 4 anni fa circa, siamo passati oggi a livello provinciale di Ravenna, a 35.000 visite al giorno nei giorni feriali, che è un'enormità. Noi tra l'altro queste cose qui le dichiariamo anche ogni 3-4 mesi, con degli articoli sulle nostre testate, per rendere conto anche, non solo ai lettori, ma agli inserzionisti del giornale, perché questo è un altro aspetto, quello delle inserzioni pubblicitarie, che andrebbe preso in considerazione, nel senso che l'investitore in pubblicità, bene o male è un consumatore, che dovrebbe sapere nell'etichetta cosa c'è scritto, e quindi pubblicare i dati di Google Analytics sarebbe fondamentale, così come lo è per la carta stampata, sapere quanti sono i resi rispetto al venduto, e sapere quanti sono i lettori rispetto ai giornali venduti, eccetera. Ma questo per un rispetto degli investitori. Questo noi riusciamo a farlo. L'unico raffronto che possiamo avere con gli altri stati online è nei ranking internazionali e nazionali, esistono vari siti e portali che fanno delle classifiche, e da lì capiamo più o meno nel nostro territorio dove siamo posizionati, e in genere siamo posizionati molto bene. C'è da dire che noi abbiamo circa il 60, più del 60% dei nostri lettori, quando viene a leggere il giornale, entra direttamente nell'indirizzo del giornale, cioè ci cerca, è fedele. Poi ne abbiamo una quantità, il resto è elevata, che si diversifica a seconda di link che possono trovare da varie parti, o perché cercano una notizia e ci trovano indicizzati molto bene, quindi trovano la notizia e entrano nel nostro giornale. Questo è un po' quello che siamo riusciti a fare. Quindi perché c'è stato questo balzo? Fondamentalmente perché siamo intervenuti proprio nel merito dei contenuti del giornale, quindi sulla qualità, cioè rimanendo comunque la parte quantitativa, che è quello che ha dato poi, è stata la prima leva di successo del giornale, perché si trovava un po' di tutti quanti gli articoli, le notizie che uno cercava anche di servizio, sulla qualità dell'informazione, appena abbiamo premuto il pedale in quel senso lì, abbiamo avuto l'esplosione, nel vero senso della parola, delle visite al giornale. Tra l'altro abbiamo un altro dato importante, che è quello che è tutto misurabile, ecco l'altra cosa è che online è tutto misurabile, puoi sapere qualsiasi cosa succede, e quindi sappiamo qual è l'articolo più letto, ovviamente quanto tempo è dedicato a quell'articolo, il tempo medio di lettura degli articoli su Ravenna Notizia è di due minuti, della consultazione del giornale, di due minuti e ventidue secondi, che è un tempo, essendo online, abbastanza elevato. Una cosa che vorrei domandare ai responsabili relatori della legge sul giornalismo, io quel po' che ho letto, non ho letto molto, ma anche quello a livello regionale, è capire, a pelle, mi sembra che la parte dell'editoria online, rispetto all'editoria cartacea tradizionale o televisiva o radiofonica, sia quasi presa un po' di sfioro, non proprio bene, come quasi fosse, questa è una sensazione, più che un giudizio, quasi fosse un problema che esiste un'editoria online, insomma autonoma.